Il numero 11, Lomboli, a disposizione di Pantina con il numero 12, Pantiano, con il numero 13, Corsico, con il numero 14, Coraca, con il numero 15, Magliarella, con il numero 16, Corsone, con il numero 17, Di Gretti, allenatore, signor Filippo Pagli. Il吉ro Di Stavo, numero uno, Mariotti, numero due, Elisico, numero tre, Stensitore, numero quatre, Berri, numero cinco, Classino Jacopo, numero sei, Masciarda, numero sette, Morsoni, numero otto, Magniaghi, numero nove, Viglio, numero dieci, Pover Mou, numero undici, Congratsichi Quindi l'idea Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.